Siamo arrivati al gran finale, l'ultimo concorrente l'abbiamo lasciato per ultimo apposta perché lui è il vincitore dell'anno scorso ed è Marco Pisano Buonasera Marco Che in realtà è Marco Pisano ma in questo momento si omiglia più a qualcun altro Buonasera a tutti Allora Marco ha già partecipato l'anno scorso, come dicevo, ha vinto l'anno scorso Con i pupi Con i pupi, sì esatto Con i pupi, sì In formazione, insomma adesso invece singolarmente Adesso cambiamo un po' Certo Allora ci fa ascoltare un metro di Renato Zero che ha preparato lui Ok, prego Grazie E poi Di colpo e con i cuori Sarei arrivato io Sarei arrivato io Sarei arrivato io Sarei arrivato io E io domanda io Sarei arrivato io Perché mi trovo qui Sarei arrivato io Sarei arrivato io Penso che ogni giorno si affrono è una pesca miracolosa E che bello pesca E che bello pescare il sospesso Su due asso Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo organismo Ma il mondo da qui sembra soltanto una popola segreta Tutti vogliono tutto Per poi Per poi anche così Sarei arrivato io Sarei arrivato io Grazie 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 Buon appetito! Buon appetito! Tanti auguri a Marco, tanti auguri a te! Guarda, ti faccio fare gli auguri da Filuccella! Ah, ma non mi hai fatto te! E' un salto che pensi... Sei fantastico! Sei fantastico! Che bello, che bello! Grazie Marco! Allora, la gara!